Tino, è arrivato il momento, noi dobbiamo fare un saluto, un vero saluto a un gruppo di persone, di 5 persone, seppur si chiamano in un unico modo, di 5 persone che ti hanno reso quello che sei, celebre in tutto il mondo. Tipo? Mimmo Modem. Non ho bisogno di lui, grazie. Sono 5 persone, non 1, 5, si chiama Mimmo Modem. Mimmo Modem è quello che ti ha reso celeberrimo in tutto il mondo. Forse non ci siamo ancora capiti, di quello, me lo dicesti l'altra volta e te lo ripeto, non ho bisogno, stop! Ma salutiamoli gli amici di Mimmo Modem, vuoi innescare la polemica? Non saluto nessuno perché non lo conosco, 3 e come bam. Ho capito, ma loro alla distanza, alla fine ti hanno fatto conoscere a tutto il popolo, perché con i loro meme, con le loro cose. Ma anche loro mi hanno fatto delle scherze, posso pure capirlo. E non ti hanno fatto né caldo né freddo, gli scherzi. Anzi, su qualcuno hai anche riso un po'. Io mi ho riso perché? E non è cosa che sia? E il pane qua, là su, giù, no, qui, là su, a dove esce? Che non possiamo che mangiare a dove esce? Che senza me? Ciao! Tu lo dicesti? Senza di me, ciao, hai capito? Salutiamoli gli amici di Mimmo Modem. No, grazie. È una community di 800.000 persone, ci sono 800.000 persone. No, tu, forse non è chiaro ancora, che te e tu, chers, non arrivi. Lo voglio di persona. Quindi li vuoi tutti e cinque di persona qua? Sì, sì. Ah, ecco, quindi se non vengono di persona non li saluti? No, perché li vuoi, come vieni tu a rompere e io ti rompo, così vuole loro. Ah, hai capito? Cioè non è contro Mimmo Modem, è che vuole tutti e cinque qua? Sì. Vuole tutto il gruppo qua? Sì. Vuole loro qua. Ah, tu vuoi loro qua? Sì. Ma perché dovrebbero venire? Eh, loro insultano a me e io insulto a loro. Oppure altrimenti prendiamo la tarantella, se loro sono d'accordo con me. Ma loro già mi prendono la tarantella. E allora, ti auguro di più. Ecco qua, quindi hai lanciato la sfida a Mimmo Modem. Allora, forse non è chiaro ancora, voglio. Cioè tu stai lanciando la sfida a Mimmo Modem. Come? La community di 800.000 persone. Tu, allora, ora ti spiego una cosa. Chiaro e tondo. Vai, di là. Come dici tu, Modem è qua, là, su e giù. No, Modem è qua, arretta la telecamera. Arretta il pubblico. Tu poi che ti avvicini sei veramente. No, no, è buono, è buono. E quindi? Ecco, li voglio, e li voglio ben distinti. Pure. Sì? Non come vai te. Ecco, quando vabbè, te ne sei proprio papà. Ma tu, e loro li voglio ben distinti. Ma tu non puoi mettere l'abito, perché non lo hai più, quindi? Come ho detto a te? Non lo dico io, perché sono io che lo vado a prendere, non lo vado a prendere, non lo vado a prendere, qui non lo hai. Eh, per favore. Ma c'è ancora come la zingara? Ah, come le zingari, va tu? Ah, come le zingari? Eh, allora, fai l'appello ai cinque di minimo modo e vai, diglielo. No, io posso, c'è una cosa. Devono venire aggarbati e assiduati. Ok, glielo devi dire. Guarda il teccato e la teccato. No, perché? No, 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 guarda le cavolo. E cosa ti devono portare? E poi, gli faccio l'elenco a quello che ho, e tu parcheggi. Ah, così, eh? Vabbè, comunque salutiamo Mimmo Modem e tutta la community da 800.000 persone. Tu stai in questo momento dicendo, tramite loro, che devono venire qui, sono loro che devono venire qui. Sì, sì, è perché io non sono a mancare. Noi ve lo diciamo, ragazzi, questo è l'invito di Lello, però almeno li saluto. Ma è chiaro, è finissimo di pensare. E se poi esco fuori e mi leggo, faccio più di più pubblicità. E poi vediamo, in quel caso, vediamo se riusciamo a organizzare, sempre che loro decidono di venire. Vengono, vengono. Tu dici che vengono? Vengono, vengono. Per te devono venire. Vengono, vengono. Perché pubblico mi prendo davanti a me. E poi lo stesso passaggio passo a te. Beh, gli invitiamo tutti. Sempre io sto in mezzo, però. Sempre io sto in mezzo. , sì, sì, sì. Ok.